La partita di ieri tra Rioave e Milan è stata una delle più assurde degli ultimi anni di calcio, una partita del paradosso fondamentalmente dove è vero tutto e il contro di tutto, dove meriti e demeriti si vanno a compenetrare l'un l'altro, perché come è vero che a livello meritocratico il Milan ha pienamente meritato, così è anche vero che il Rioave si è mangiato l'impossibile. Io qui ho davanti dei lati di Sofascore perché veramente è stata una partita dell'assurdo con una serie infinita di rigori, con gol all'ultimo minuto, stupidaggini in campo, tecniche parlo. Comunque andiamo un attimino all'analisi. Un Milan che comunque si è schierato con questo 4-3-3 o 4-2-3-1, con questo Ciannoglu a fare ponte tra il centrocampo e attacco, e con un Daniel Maldini schierato come falso Nueve, diciamo così. Poi nel secondo tempo hanno aumentato anche Brian Diaz e quindi un po' praticamente la situazione è cambiata. Il Milan che va in vantaggio con la rete di Sele Mekere, con un tiro che io definisco un tiro abbastanza infamello perché è stato tirato male. Però quel male che ha consentito al pallone di andare all'angolino basso, alla sinistra, alla destra del portiere del Rioave. Pareggio di Francisco Graldes, 25enne, ex Vivaio Sporting Lisbona. Tra l'altro l'assist è stato di Piazzone, quindi ex Chelsea, ex Chielo Verona, che non ha mai sfondato nel calcio veramente che conta. Inizial si fa ovviamente in temi supplementari, il 91esimo gol di Dala con un sinistro calciato male, alla sinistra di Donnarumma, però comunque chirurgico. ultimo minuto. Anche nel calcio reale si conferma che Borevkovic è un folle perché Borevkovic l'ha avuto anche in una carriera su Football Manager con il Bordeaux e mi ha fatto veramente piangere lacrime amare. Un fallo di mano all'ultimo minuto. Un fallo stupidissimo per quanto possa essere stato un movimento istintivo magari, ma cretino, un intervento cretino, primo bivio. Già il fatto che comunque un giocatore vada a fare quella scemenza nell'ultimo minuto del secondo tempo supplementare che la vittoria era portata a casa insomma per i portoghesi, ok, avviene, si fa i calci di rigore, dove anche qui i paradossi, i paradossi, gli incroci, i destini perché Colombo, giustamente osannato, ha sbagliato il rigore in modo veramente clamoroso. Per fortuna per lui, mi fa piacere per lui che non sia stato decisivo, sbagliano i portieri, prima Donnarumma spara in tribuna e anche il portiere del Rioave la spara anche lui in tribuna. Come si chiama? Kijek. Anche lui la spara in tribuna. Rigore molto simile a quei Donnarumma. Ma ripeto, dove ha preso il palo che era Aldes, dove in una giornata di caporetto, diciamo, per le squadre scandinave in Europa il rigore vittoria lo segna Simon Kier. dove il Milan avrebbe demeritato perché il Rioave ha comunque sprecato l'impossibile perché una squadra come il Milan doveva mangiarselo il Rioave. Quindi avrebbe meritato ai punti. Ma di contro il Rioave ha avuto il demerito di sbagliare, ma il Milan ha avuto il merito di rimanere in partita, ma al contempo il demerito di milioni di altre robe. Una partita veramente del paradosso. Detto ciò, sono contento che il Milan sia tornato in Europa perché comunque è il giusto coronamento di questa serie positiva di Pioli. lo merita l'allenatore, lo merita i giocatori. Sono contento magari per appunto i giocatori come Cianoglu che insomma venivano da anni non proprio positivissimi. Quest'anno, mai come ora, si sta dimostrando un vero leader in campo. Buon impatto anche di Dias. Teo Hernandez, sempre veramente decisivo. Kier, vabbè Kier, io sapete che amo gli Scandinavi, ma mai come quest'anno anche lui decisivo, con rigori, con interventi, ne ha segnati due Kier. Uno a 20 cm assiste il portiere e quell'altro a 20 cm a destra. E Kier che è rimasto fermo come un sasso. Benasser che mi sbaglia al secondo rigore, ma ha anche un altro emerito del Rioave. Borevkovic, ripeto, non puoi fare quel fallo lì folle. Folle. Un emerito del Milan è stato quello di non aver iniziato nel migliore dei modi. Perché veramente ha iniziato male. Ripeto, si sarebbe dovuto mangiare il Rioave. Perché il Rioave non è il Copenhagen, per fare un esempio, o il Mite, o il Dynamo Kiev. È una squadretta. Parliamone, è una squadretta. Per quanto possa essere organizzata, ma tu sei il Milan, c'è giocatori nazionali. Non puoi arrivare al 120esimo a sperare in un pareggio. Ora staremo a vedere cosa accadrà. sicuramente da italiano ho tutto il piacere che il Milan prosegua questo cammino in Europa League. E staremo a vedere come va a finire Forza Pioli. Grande. Sono contento anche per lui che lo merita dopo essere stato accantonato idealmente, prematuramente a favore di Rangnick. Si sta confermando. Ovviamente per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete e a giorni, quando sono un po' meglio fisicamente, inizierò le live sulla piattaforma Vior. Quindi seguitemi sui social, vi metto anche il link del canale qui in descrizione perché sui social pubblicherò quando andrò in live. Che peso parlare! Vi mando un abbraccione, ci vediamo al prossimo video. Ciaoone!